Oggi è il giorno della protesta dei cittadini, sia quelli costretti a bivaccare nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti. Si può giustificare il fatto che un'ondata di freddo, anche straordinaria, possa mettere il paese così in ginocchio? Sì, è assolutamente inaccettabile, ma bisogna fare gli investimenti e sono stati anche fatti degli investimenti, soprattutto per esempio per le linee ad alta velocità. Non si riesce a capire come mai questi investimenti poi non producano una ottimizzazione di questo servizio. Ma insomma, abbiamo sempre detto che quando c'è la neve, le gelate, non andate per strada, andate sul treno. Il treno è sempre stato visto come il trasporto più tranquillo, più sicuro. Ecco, quindi è inaccettabile questa situazione. Evidentemente bisognerà fare una serie indagine del perché sono successe queste cose. Ma poi, diciamo anche la verità, ma si può rispondere a una situazione come questa dicendo portatevi panini e le coperte? Ma dico, ma anziché dire rafforzerò i servizi a bordo per i panini, tirerò giù le tariffe che ho aumentato una settimana fa e anzi vi darò un bonus perché soffrirete ritardi maggiori. E terza cosa, anche un aumento dei servizi informativi, i centralini dei treni Italia, delle aerovie, erano assolutamente non operativi, bloccati dalle continue richieste giustamente di chiarimento. Allora così si risponde a un'emergenza. Da un lato a vedere cosa è successo per le infrastrutture, era un'indagine precisa e approfondita, investimenti, sicurezza e infrastrutture. E dall'altro lato ci aspettiamo da Trinitalia e se Trinitalia non lo fa metteremo in campo qualsiasi iniziativa di carattere anche legale per avere i risarcimento dei danni patiti dai cittadini.